Giammarino, si avvicina all'importante appuntamento con il Giubileo, la Regione Abruzzo è pronta a partecipare in maniera attiva con i suoi percorsi religiosi? Sì, io credo di sì, Culto e Cultura in Abruzzo ormai ha già diversi chilometri, 78 per la verità, di cammino che è stato palinato, quindi è tutto registrato, non ci sono problemi ad andarci, già ci vanno in maniera consistente. E dopo abbiamo strutturato in 15 anni un lavoro comune nella realtà abruzzese ma anche con le realtà italiane ed internazionali, sia per quanto riguarda la necessità, la possibilità di concretizzare, di fare in modo che i giocatori che vengono, le persone che vengono ai nostri B2B possono riportare a casa. E se vengono da 15 anni un risultato ce l'hanno, questo è fuori dubbio. Tra l'altro noi andremo il prossimo 6 novembre al 13esimo workshop e nello stesso tempo presenteremo il quinto rapporto sul turismo religioso. Con i dati ISTAT consolidati e quindi tutto in verità che ci mette in condizione di poter dire come fare e perché fare, in che modo fare, in ragione dei dati scientifici certi che ci mettono a disposizione ISTAT. L'importante è che la regione si metta in condizione di avviare un percorso aderente alla realtà del nostro territorio. Voglio dire in altri termini che non bisogna utilizzare il politichesse ma bisogna utilizzare un verbo che è quello professionale e capacitale.